Sì, allora la ricorrezza di San Sebastiano è un momento dell'anno che per la Polizia Locale rappresenta un momento di bilanci. Quest'anno è il mio primo anno come dirigente e comandante della Polizia Locale di Gallarate. I risultati sono sicuramente soddisfacenti, in linea con gli anni precedenti abbiamo cambiato un po' il target, abbiamo costituito un'unità specialistica per il contrasto agli illeciti nelle materie proprie della Polizia Locale, quindi della Polizia Delizia, ambientale, della sicurezza urbana e anche lì il personale che è stato formato in questi mesi ha subito risposto e i risultati che sono arrivati sono confortanti. La presenza sul territorio è continuata in maniera importante, con presidi fissi nei punti nevralgici della città e anche con l'introduzione del servizio nei quartieri e negli uomini. Quindi sostanzialmente c'è ancora molto da fare ma i risultati fino ad oggi sono soddisfacenti.